lorenzo in macchina con maria vittoria le chiede quanto gli vuole bene e lei fa tanto 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 tantissimo mavi quanto vuoi bene a papà amore di papà ragazzi e mavi ci siamo fatti una dormita dalle due e mezza che siamo tornati perché poi va iniziato pure a piove no sense insomma ci siamo svegliati adesso solo che lei è bella fresca io sto proprio cioè sotto a un treno sembro mamma mia amore mavi maria vittoria e pensare che una volta qua mettevo le uova e adesso invece ti sei parcheggiata tu amore dalle uova le scriccioline un attimo ragazze buongiorno a tutte buona domenica allora noi siamo già in viaggio strano ma vero c'è anche la soffi con noi eccola no lei è maria vittoria non dormiremo dai miei questa volta ma abbiamo preso una bellissima villettina che poi faccio vedere così se vi dovesse piacere questa tipologia almeno la potete tenere in considerazione maria vittoria già partita con la manina a dopo poi tutti al supermercato e in partenza per riccione hanno affittato quest'anno una bella villetta buone ferie